Spunta la luna dal monte Spunta la luna dal monte Tra volti di pietra, tra strade di fango Cercando la luna, cercando Il segreto sia quello di divertirsi ogni volta che si sale sul palco E possiamo stare con qui altri 30 anni Noi abbiamo un numero di seguaci piuttosto importanti Ci sono testimoni che ci hanno detto che c'erano già le prime file piene dalle prime ore del pomeriggio Questo è quello che succede sempre nei nostri concerti B Dì dove io sono, donalre Gesù amè Dì dove io sono, dì in campo E' la tua cosa, è la tua cosa Dè la tua vita, è la tua cosa Dì dove in campo E' la tua cosa, è la tua cosa E' la tua cosa, è la tua cosa Dì dove in campo Noi siamo convinti che il pubblico che ci segue, tutta la gente che viene a sentirci sia parte integrante del nostro spettacolo, non sono soltanto degli spettatori, della gente che viene a vedere tre ragazzi, piuttosto che una band, risuonare un repertorio così importante e fresco di trent'anni, è parte del nostro concerto, è parte del nostro spettacolo, noi cerchiamo di coinvolgerli sempre ed è uno dei nostri punti di forza. Ma buona, in te lo di esa minuta parà, si sapevi da sangbe, in un po' soluto, ti chisci da una ma, ma buona, se stuè in a cura. Un saluto, un abbraccio, un ringraziamento come sempre a tutti i nostri fan. Per cui ci sia un modo di convenienza da inaugurare, noi siamo disponibili. Grazie mille ragazzi, a tutta la gente che ci viene a vedere, a voi che ci avete scelto, a noi, a Gino, Gigi, a me, alla nostra band e a chi ci è più affezionato. Grazie. Grazie mille. Grazie mille.